Consiglio comunale monotematico a Terlizzi sulle prospettive dell'ospedale Sarcone interessato pare da un ridimensionamento. Voci di corridoio magari rimbalzate sui giornali, dice il sindaco, nessun atto amministrativo concreto. Tanto basta però a Terlizzi per riaprire una ferita sempre aperta all'ospedale in odore di ulteriore ridimensionamento. Dal piano fitto in poi l'argomento è sempre caldo nella città dell'ex governatore Nichi Vendola. Il consiglio comunale monotematico ha chiesto dal primo cittadino e un segnale al presidente della regione Michele Emiliano come a dire preventivamente che il Sarcone non si tocca. Non dimentichiamo che tre anni fa la giunta regionale aveva comunque approvato l'istituzione di un nuovo ospedale che dovesse servire principalmente i comuni di Molfetta, Biceglie, Terlizzi e comuni viciniori nascendo proprio in un territorio intermedio tra questi comuni e chiaramente la prospettiva oggi rimane sempre quella ma è altrettanto chiaro che fino a quando questa prospettiva non si realizza, ergo, fino a quando questo nuovo ospedale non nasce non deve essere disattivato nulla dei servizi attualmente esistenti. L'opposizione attende di capire la difesa dell'ospedale è comunque una priorità. Sono stati investiti 10 milioni di euro e che comunque ha in sé delle professionalità, delle attrezzature e peculiarità tali da garantire su un ampio territorio dei servizi d'eccellenza che possa venire più su un ospedale come quello di Terlizzi francamente è veramente assurdo.